Francesco Giubilei è autore del libro Follie Ecologiste, presentato oggi presso la sede di Fratelli d'Italia Ferrara. Che cosa sono queste follie ecologiste? Sì, intanto ringrazio l'assessore Balboni per l'invito, è un piacere tornare a Ferrara. All'interno di questo libro Follie Ecologiste cerco di raccontare alcune follie per l'appunto che sono state portate avanti negli ultimi anni, in particolare dall'Unione Europea ma non solo, legate al tema dell'ambiente, che è un tema che non ha colore politico, che è stato però evidentemente ideologizzato negli ultimi anni ed è stato legato anche a una serie di fenomeni come per esempio l'ultima generazione che ha imbrattato monumenti, ha deturpato palazzi, ha bloccato le strade portando avanti una visione ambientale da cui ovviamente ci discostiamo. Che cosa contesta particolarmente delle teorie diciamo che vengono maggiormente evidenziate oggi? Ma anzitutto un approccio anti-umano, quindi contrario all'uomo, come se l'uomo fosse un nemico, un avversario della natura, quando in realtà già nella Bibbia si spiega come uomo e natura facciano parte dell'unico grande insieme che è il creato, e poi nella fattispecie, questo è un punto di vista più culturale, da un punto di vista invece politico, le direttive che sono state portate avanti dall'Unione Europea, in particolare la direttiva sulla Casa Green, che in parte fortunatamente è stata rivista, invece la direttiva approvata sullo stop al motore endotermico nel 2035, sono senza dubbio delle politiche che vanno contro le esigenze, anzitutto dei cittadini più deboli, ma anche contro le esigenze del nostro tessuto imprenditoriale, economico, rischiando di fare un favore alla Cina. In merito a fenomeni estremi a cui a volte assistiamo, qual è la sua teoria, la sua tesi in merito? Guardi, parlo anche da Romagnolo e da Cesenate, voi come sapete Cesenia è stata una delle città insieme a Faenza più interessate dalla tragica alluvione della scorsa primavera, bisogna agire sotto due punti di vista, c'è un tema di un fenomeno che è stato un fenomeno inusuale da un punto di vista di quantità di precipitazioni, ma c'è un tema di prevenzione, bisogna fare più prevenzione, in particolare bisogna cercare di lavorare sulla cura degli argini, cosa che non sempre è avvenuta, e in secondo luogo la necessità di realizzare delle opere che sono necessarie e che un ambientalismo del no a tutto blocca, penso alle vasche di laminazione, se fossero state fatte le vasche di laminazione nel territorio del Faintino avremmo probabilmente avuto delle conseguenze minore rispetto a quelle che invece sono avvenute. Assessore, oggi una visione dell'ecologia forse un po' diversa rispetto a quella che viene disegnata abitualmente, ecco perché questa presentazione del libro? È necessario fare capire che la cultura dell'ecologia fa parte anche della cultura della destra, quindi noi siamo rappresentanti di Fertelli d'Italia, siamo rappresentanti di un'idea conservatrice, ma proprio per questo siamo grandi amanti della natura e la difendiamo, e penso che questa passione, questo amore per la natura sia stata anche trasmessa dal lavoro che abbiamo svolto come amministrazione comunale, e dal mio impegno personale come assessore all'ambiente, quindi sicuramente trasmettere a future generazioni ciò che è stato tramandato dai nostri nonni e dai nostri genitori è un valore imprescindibile e quindi saper declinare in una chiave moderna e che sappia coniugare il lavoro e la sostenibilità è una sfida tra le più importanti e tra le più contemporanee. Ecco, un commento su questo libro, un libro che ridisegna, tra virgolette, quelle che sono certe teorie, diciamo sposa anche quello che è la linea di Fratelli d'Italia? Ma diciamo che oggi la sinistra si diverte davvero a nederci delle etichette che sono sbagliate, quindi la sinistra vuole che la destra sia anti-ecologista, che sia contro ripresa dell'ambiente, vuole che la destra non abbia delle persone in grado di poter produrre cultura e quindi in questo caso Giubilei ha saputo smentire entrambe le tesi in un solo colpo. A destra c'è cultura, a destra c'è passione per l'ambiente e soprattutto c'è un approccio verso queste tematiche che è concreto e non è ideologico. Questo vuol dire che le soluzioni che abbiamo visto proporre in Europa o anche nel governo negli anni passati sono semplicemente strumenti di propaganda o di ideologia che ha nulla a che fare con il mondo reale, il mondo della produzione, del lavoro e anche dell'industria.